Facebook, tasto, Donaora, arriva in UE, ANSA, Roma, 13 settembre a due anni di distanza dal lancio negli Stati Uniti. Facebook ha deciso di introdurre anche in Europa il tasto, Donaora, che consente di fare donazioni a favore di ONG e organizzazioni caritatevoli senza uscire dal social network, lo ha annunciato il CEO della Societ, Mark Zuckerberg, in un post. Gli enti di beneficenza, ad esempio l'Unicef o la Croce Rossa, potranno cos raccogliere contributi direttamente dalla propria pagina Facebook. La Novit, come riferisce il Guardian, SAR disponibile entro fine settembre in Irlanda, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, e ad ottobre SAR estesa ad altri dieci paesi tra cui l'Italia. Le organizzazioni possono oggi ospitare il pulsante Fai una donazione sulla propria pagina. Ma al momento l'utente che vuol dare il proprio contributo viene indirizzato verso siti web esterni tramite cui procedere con l'operazione. Il tasto Donaora, invece, permette di donare restando sul social.